Arrivano da lì la squadra che ci ha presentato Ursula von der Leyen, ci sono sei vicepresidenti esecutivi tra i quali il nostro fitto, cercheremo di capire come hanno reagito i partiti, i partiti di governo ma anche le opposizioni, ce lo racconterà Luca Sappino e però a Strasburgo tra pochissimo comincia una conferenza stampa, ci faremo aiutare a raccontarvela da Ludovica Ciriello che si trova appunto a Strasburgo, conferenza stampa che porta sulla ribalta internazionale il caso Salvini Open Arms e a proposito di questo ne parleremo, torneremo a parlarne in questo studio anche con l'aiuto di Romeo, il capo dei senatori della Lega che torna a trovarci e poi dall'altra parte vi parleremo di Grillo e di Conte che simpaticamente continuano a mandarsi lettere, non esattamente con dolcezza, mettiamola così. Tra poco iniziamo, iniziamo con Antonio Badellaro e Luciano Fontana, tra pochissimo anzi, iniziamo, restate lì. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio ad Alessio. Dunque è la giornata in cui Ursula von der Leyen ha presentato la sua squadra, in questa squadra c'è anche Raffaele Fitto, una delle sei vicepresidenze, vicepresidente esecutivo con delega alla coesione e alle riforme. Sentiremo come sta reagendo la politica, il governo ma anche le opposizioni, Luca sicuramente raccoglierà delle voci e poi però, restando a Strasburgo, è tempo di conferenza stampa. Dovrebbe cominciare tra qualche minuto la conferenza stampa del gruppo dei Patrioti Europei, quello per capirci al quale fa capo anche Vannacci, Orban, Salvini. Ecco, i Patrioti Europei vedono arrivare sul loro tavolo la questione Salvini Open Arms, quindi quella questione si prende uno spazio internazionale per volontà di Salvini. Cercheremo di capire di cosa si parlerà esattamente in conferenza stampa, chi parlerà in conferenza stampa, c'è Ludovica Ciriello e attraverso lei sapremo tutto. E poi ancora, ecco, la vedo inquadrata e quindi la saluto subito subito, e poi ancora il caso Salvini, continuiamo a parlare. In studio viene a trovarci Romeo, capo dei senatori della Lega, parleremo anche di politiche migratorie, quanto sono diverse, quanto sono uguali. Le politiche di questo governo rispetto a quelle del governo giallo-verde, ai tempi di Open Arms c'era appunto il governo giallo-verde nel 2019. Torneremo appunto sulla questione Grillo-Conte e a questo punto saluto Luciano Fontana, direttore Corriere della Sera. Ben trovato Luciano, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Quando arrivano gli avvocati la relazione è veramente finita, me lo confermi Luciano? Siamo così, ci insegnano, no? Mi sembra proprio così. I divorzisti ci dicono così. Così accade nelle famiglie, così accade nelle aziende, sì, sì, sì. Saluto Antonio Padellaro, cofondatore e firma del Fatto Quotidiano. Ben trovato Antonio, buon pomeriggio. Colonna portante lì. Buon pomeriggio e saluto il direttore del Corriere. Alessio, ora dove partiamo? Dall'apertura dei siti, Tiziana, che è dedicata alle notizie che arrivano da Strasburgo, la scelta dei componenti della Commissione, i vicepresidenti, i vicepresidenti esecutivi, sia Corriere.it, eccolo qui, se i vicepresidenti c'è fitto sia il sito del Fatto Quotidiano, aprono con questo, il PNRR lo gestirà fitto insieme a Valdis Dombrovskis, già commissario. Luca Sappino, dacci subito le reazioni del governo, che immagino, insomma, di contentezza. Tutti molto soddisfatti. Tutti molto soddisfatti, Tiziana. Una sfilza di dichiarazioni di Fratelli d'Italia, in particolare. Gli altri gli fanno i complimenti, le congratulazioni, gli auguri buon lavoro. Da Fratelli d'Italia si dice qualcosa in più, si dice viene premiata la coerenza di Giorgia Meloni, che non ha ceduto neanche nelle ultime settimane di trattativa accesa con i socialisti europei, soprattutto con le altre famiglie politiche della maggioranza Ursula. Tonni molto diversi, ovviamente usati dalle opposizioni. Mi aveva colpito poco fa Peppe Provenzano del Partito Democratico, che con tono sfidante diceva bene, adesso Giorgia Meloni e i conservatori sono di fatto in maggioranza, non potranno più dire di essere fuori. Vediamo come se la cavano. Antonio, è una vittoria di Giorgia Meloni? Che appunto avrebbe saputo tenere il punto con Ursula von der Leyen? Sì, indubbiamente, ma oggettivamente. Intanto perché è riuscita in un'operazione che sembrava molto complicata quando non aveva dato il voto alla von der Leyen per il suo secondo mandato. E lì si era detto, ecco, l'Italia fuori gioco, l'Italia... E oggi è riuscita a ottenere per finito un incarico forte. Quindi dal punto di vista, diciamo, della tattica politica, bisogna dire che dovrebbero anche riconoscerlo ogni tanto anche gli avversari, perché la Meloni merita tante critiche al governo, facciamo l'elenco. Però quando c'è un aspetto positivo sarebbe così giusto riconoscerlo. In questo caso è andata bene, ma è andata bene all'Italia. Perché attenzione che c'è un interesse nazionale e credo che, per esempio, l'atteggiamento del Partito Democratico sia un atteggiamento molto serio, nel senso che vogliono ascoltare quello che dirà Fitto, tra l'altro che dovrà essere sottoposto a un esame previsto dalla... Sì, quello che viene definito l'esame di europeismo, no? Esatto, l'esame di europeismo e credo che, appunto, l'interesse nazionale in questo caso è stato difeso bene. Ti chiedo, Luciano, intanto chiedo anche a te, appunto, Vittoria Netta di Giorgia Meloni, ma ti chiedo di più atteggiamento a questo punto saggio delle opposizioni è votare compattamente per Fitto? Sì, naturalmente quello che era accaduto con il voto contrario alla nomina di Ursula von der Leyen poteva anche prefigurare un risultato diverso. Questo risultato, invece, è buono per il nostro governo, un incarico di rilievo, una vicepresidenza esecutiva, quindi una presenza dell'Italia molto forte nella Commissione. Io credo che da questo momento si apra però tutta un'altra partita, anche perché in Europa e nel Parlamento europeo le maggioranze sono spesso variabili, si formano spesso per temi, quindi c'è, come dire, Ursula von der Leyen con questa scelta si è data anche la possibilità di poter lavorare in una maniera più larga, di poter mettere dentro un gruppo come quello dei conservatori, che in ogni caso serve ad allargare la sua maggioranza e anche a dargli un po' più di forza al Partito Popolare nei confronti di socialisti e verdi. Questo è il primo punto. Io credo che nel modo in cui le opposizioni si siano confrontate con la possibilità di fitto c'è stato, come dire, all'inizio un momento un po' di sbandamento, le frasi, le presupposizioni non erano tanto incoraggianti. Da parte del Partito Democratico in particolare c'è stato un cambiamento, una valutazione, sapendo che il commissario è il commissario dell'Italia ed avere una personalità come fitto con un ruolo importante, tra l'altro anche con la sua storia, che non è proprio una storia da sovranista e da patriota anti-europeo. Credo che possa essere una buona opportunità. In questo caso deve prevalere l'interesse del Paese. Vedo che in altre posizioni, ho visto le dichiarazioni dei Verdi, le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, le prese di posizioni sono un po' diverse. Ma insomma è importante che il Partito Democratico faccia invece questa riflessione. Sì, ieri in questo studio Alice Line ha detto vediamo le deleghe, sentiamo che cosa dice fitto, però era chiaro che non c'era una preclusione, anzi, diciamo, tendenzialmente mi sembrava che si andasse nella direzione che anche voi ci state ricordando. Alessio, altre notizie? Tiziana, il caso Open Arms, Matteo Salvini, con le dichiarazioni che stanno arrivando, l'ultima in ordine del tempo, e della Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il processo Salvini ha fatto il Ministro, non fu sequestro di persona. Antonio Salvini, ospite di Porro, a Rite 4, ha detto che non patteggerà e che andrà fino in fondo. Lo credo bene, quando gli ricapita una fortuna così. Ma guardate che io ho scritto, scherzando fino a un certo punto stamattina, che ha stappato lo champagne, quando ha saputo dei sei anni della Chiesi dalla Procura di Palermo. Era un leader completamente dimenticato. Ah, cioè tu dici così al centro della scena, invece? Beh, è stato un colpo di fortuna inaspettato. Adesso sta facendoli... Adesso è diventato di nuovo un protagonista. Musk, Orba, tutto il trampismo lo esalta, è stato eroe addirittura, è stato un prode, un personaggio straordinario, viene dipinto come i suoi, anche quelli che storcevano la bocca e che magari si preparavano, no? Insomma, a metterlo all'angolo. Al congresso, che di nuovo è stato rimandato? Devono per forza solidarizzare. Addirittura ho visto che i suoi libri, che insomma non è che fossero in cima alle classifiche, adesso vengono ristampati con le novità, vengono le anticipazioni, se le combattono libero il giornale. Insomma, un bel colpo. E perciò lui andrà fino in fondo. Anche perché con i tempi della giustizia italiana, prima che si arrivi a una sentenza definitiva, stampa a cavallo. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Mi aprite Ludovica Ciriello, credo che non la vedremo perché dovrebbe essere all'interno, a Strasburgo, all'interno del luogo in cui si tiene la conferenza stampa, che è una conferenza stampa che porta a livello internazionale la questione open arms. Spiegaci un po', Ludovica. Allora, intanto Tiziana, sì, mi sono allontanata, per non dare fastidio che la conferenza sta iniziando. Però questa è la seconda volta che il gruppo dei patrioti prova a portare il tema open arms all'attenzione del Parlamento europeo. Perché ti dico questo? Perché già ieri avevano provato a farla inserire nell'agenda ufficiale dell'emiciclo, quindi proprio a parlarne in aula, e hanno fallito perché questa richiesta è stata respinta. È stata respinta ufficialmente perché l'agenda era molto piena, anche se io ho rubato qualche dichiarazione e parere da parte del Partito Democratico che mi hanno detto a mezza bocca forse non è lusinghiero per l'Italia portare al centro del dibattito al Parlamento europeo il fatto che il nostro vicepremier abbia una richiesta da parte della pubblica accusa ai sei anni di carcere. Questo tra lo scherzo e il serio mi è stato così risposto. La conferenza che sta iniziando in questo momento è una conferenza, come tu anticipavi, dei patrioti. C'è la rappresentante di Fidesz, quindi del partito di Orban, che è la parlamentare con il caschetto biondo, la vedi lì. Al suo fianco c'è Borchia, che è l'esponente invece della Lega. E loro sono i compagni di Banco, di Matteo Salvini, del gruppo della Lega qui al Parlamento europeo. E quello che vorranno fare, mi è stato anticipato, è attaccare appunto il Parlamento europeo per non aver voluto discutere di questo argomento in aula e quindi assumersi la responsabilità di difendere l'operato di Salvini. Cioè loro fanno una conferenza stampa per dire al Parlamento che è brutto e cattivo perché non parla della vicenda di Salvini? Ho capito bene? Loro faranno una conferenza stampa intanto per esprimere la loro solidarietà. Sappiamo che Orban ha definito eroe, un patriota eroe, Matteo Salvini. Quindi questa è la premessa. Però quello che mi hanno detto è soft. E' un'azione nel Parlamento. Perfetto. Fatemi sentire, Luciano Fontana, che cosa pensa di tutto ciò e qual è l'obiettivo politico di Salvini? Io credo che abbia descritto bene Antonio Patellaro intanto cosa sta accadendo e quale forza questa vicenda sta ridando a un Salvini che aveva qualche difficoltà. Voglio anche ricordarvi che Salvini ha ottenuto i suoi più grandi successi elettorali in un momento molto limitato in cui la Lega è stato il primo partito italiano tutto sulle questioni dell'immigrazione. Io credo che in questo momento politico queste questioni non siano così rilevanti dal punto di vista del consenso come lo erano qualche anno fa. Ma in ogni caso questa è la linea di Salvini. La vuole condividere e portare a livello internazionale con i suoi alleati. Insomma la frase di Orban è abbastanza evidente anche se io non capisco cosa ci sia ed è eroico nel tenere delle persone per tantissimi giorni. A largo sei in una nave stipata senza farli sbarcare ma questo è un altro tipo di considerazione. È una vicenda che Salvini ha tutto l'interesse a mettere in chiave politica. D'altra parte è una vicenda che nasce politica perché due casi avevamo uno che riguardava la 18 e uno che riguardava Open Arms. Quando c'era l'accordo con i 5 Stelle non è stato autorizzato il processo quando è saltato il governo giallo-verde il processo è stato autorizzato. Adesso la normalità sarebbe andare a vedere se quello che è accaduto rispondeva alle leggi, al diritto internazionale e anche ai principi di umanità e lì andare ad esaminare non buttarla in politica però non sarà così e tutto quello che accadrà è lo sfruttamento di questa vicenda. Sarà utilizzato tra l'altro in chiave politica in ogni caso, no? Qualunque sia la sentenza a questo punto. Ma certamente se la sentenza sarà positiva come anche possibile si dimostrerà che quello che ha fatto Salvini era giusto andava contro la giusta esigenza di difendere i confini del Paese se sarà condannato quando mai accadrà perché i tempi li ha detti bene Patellaro e sarà la dimostrazione che c'è una magistratura che è una componente politica che si batte contro il governo insomma non se ne esce la strada è tracciata che tutto questo porti a qualcosa di molto rilevante politicamente lo vedremo mi sembra che le priorità in questo momento siano un po' altre e anche questo governo sull'immigrazione ha una politica diversa da quella del governo Giallo Verde su questo non c'è alcun dubbio giusto o sbagliata che sia ma sicuramente diversa A proposito della politica diversa o simile ieri c'è stata una visita importante anche un riconoscimento a Giorgia Meloni importante, no Alessio? Abbiamo seguito praticamente in diretta Il premier laburista britannico Keir Starmer che si è intrattenuto a Palazzo Chigi per un incontro e poi per una conferenza stampa congiunta per parlare di immigrazione c'è eco ancora sui giornali e sui giornali online una clip del passaggio della posizione di Meloni e di Starmer Il primo ministro Starmer siamo d'accordo sul fatto che la prima cosa da fare sia intensificare la lotta al traffico di esseri umani farlo unendo molto di più gli sforzi lavorando a una maggiore cooperazione di sicurezza L'Italia ha dimostrato che possiamo avete fatto notevoli progressi Ti chiedo Antonio mi venivano in mente due immagini queste da una parte quindi i complimenti del primo ministro inglese da una parte rispetto alle politiche migratorie dell'Italia anche se poi ha detto guardate che sull'Albania è quello del Rwanda è quello che ha cancellato la voce Rwanda dalle politiche migratorie della Gran Bretagna mentre è anche sottolineato rispetto all'Albania non c'è evidenza che quello incida perché l'Albania ancora non esiste come è fatto in sé quindi ci sono gli accordi libici gli accordi con la Tunisia quelli stanno portando frutti eventualmente ma da una parte c'è l'immagine appunto dei complimenti del primo ministro inglese e dall'altra parte mi viene in mente c'è quell'immagine estremamente drammatizzata di Salvini che fa il video di 4 minuti che viene poi trasmesso da Rai News 24 col nero dietro cioè quanto c'è anche di contraposizioni all'interno del governo quindi di posizionamento su un tema come quello delle politiche migratorie che è stato un tema carissimo a Salvini Sì diciamo che la posizione come diceva il direttore del Corriere la posizione del governo italiano oggi è una posizione che ha poco in comune con modo veramente vergognoso con cui Salvini affrontò le vicende dell'immigrazione in particolare le vicende legate alle navi cariche di poveretti tenute sotto il sole ricordiamolo sempre questo per giorni e giorni per appunto per salvaguardare i confini della patria quindi credo che la Meloni si muova su un'altra abbia un'altra posizione attenzione la vicenda albanese è ancora tutta da chiarire perché lì si è trattato di un colpo propagandistico quello no del fatto che si volevano creare una specie di propagine della sì lì dovrebbero andare mille persone mille migranti solo maschi maggiorenni che verranno trasferiti lì però ancora siamo insomma dinanzi ad un progetto da vedere è un'operazione complessa costosissima ecco lì vi ripeto un colpo di propaganda devo aggiungere una cosa la Meloni mentre la Meloni quando gioca in casa ha veramente dei problemi grossi con casi San Giuliano Lobrigi insomma circondata com'è da personaggi che le creano problemi cioè la mattina lei si sveglia si chiede cosa verranno con questi ecco a livello internazionale lei riesce invece a fare delle cose diciamo di un certo rilievo tra l'altro ricordiamo che Starmer è il leader del partito laburista cioè è un partito certamente non affine non c'è dubbio non c'è dubbio con la Fonderlein lei ha creato un rapporto personale che ha funzionato cioè abbiamo una Meloni che quando esce dai confini nazionali mostra un piglio e anche una capacità politica abbastanza sorprendente quando torna purtroppo per lei a Roma si deve occupare appunto delle questioni che fanno spesso sorridere perché siamo in certi casi veramente non solo al livello del ridicolo ma anche c'è un modo di trattare le questioni istituzionali da parte di uomini vicini uomini di Fratelli d'Italia che è veramente desolante allora aspetta 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 perché abbiamo messo insieme un po' di questioni intanto lo dico a chi ci segue ma anche ai nostri ospiti sia da Antonio che da Luciano se volete capire di più cosa sta succedendo rispetto all'accordo con l'Albania noi più tardi ci colleghiamo con l'Albania quindi dovete restare lì perché cerchiamo di capire a che punto siamo e intanto questa messa via seconda questione ho visto le immagini che arrivano da Strasburgo siamo sempre sul pezzo Antonio che ci possiamo fare le immagini che arrivano da Strasburgo sta parlando Borchia della Lega apriamo un attimo così sentiamo a che punto siamo lì conferenza stampa lo ripeto il capitano la centralbank verfolgta in Deutschland explodire le immagini il pochino il pochino il pochino il pochino era ed è evidente lo scopo di mettere in secondo piano la salvaguardia dei migranti perché la prima finalità era quella di destabilizzare il governo italiano il governo italiano che dal punto di vista dell'immigrazione stava portando dei risultati importanti che destavano attenzione e interesse anche l'Europa almeno in quella parte dell'Europa che si sforzava di ragionare il suo nuovo approccio all'immigrazione il 14 agosto del 2019 nonostante la prova in Spagna avesse potuto arrivare almeno una settimana prima la nave si posiziona davanti al porto di Lampedusa e il 20 agosto avviene lo sbarco però invito tutti quanti a prestare attenzione ad un dato dei 164 migranti a bordo ne erano rimasti 84 allora evidentemente la ricostruzione che fa Borchia noi poi avremo modo con il capo dei senatori della Lega di ritornare su questa questione francamente vorrei dire all'onorevole all'europarlamentare Borchia che anche fossero stati tre avrebbe un peso e un significato se stai 19 giorni sequestrato su una nave anche tre bastano ma anche uno non è che se solo 147 o sono 83 fa una significativa differenza non so se i miei ospiti sono d'accordo però insomma mi sembra abbastanza evidente e l'altra questione che ovviamente c'è tutta la ricostruzione c'erano non c'erano gli altri porti a questo serve il processo e magistrate il pubblico ministero ha ritenuto che non ci fossero evidentemente le ragioni per non far sbarcare quei migranti poi vedremo il giudice che cosa valuterà sarà fatta un'apposita ricostruzione anche dalla buongiorno che è l'avvocato difensore di Salvini e che evidentemente ricalcherà quello che sta dicendo Borchia ma a quello serve il processo ultima questione classe dirigente sollevava la questione Padellaro profilo europeo alto qualche volta altissimo di Giorgio Meloni Luciano profilo diciamo interno preoccupazione interna e tutti i giorni Giorgio Meloni si sveglia e pensa che mi avranno combinato i miei ministri dice Antonio Padellaro sto traducendo ma mi sembra che la sostanza sia questo vero o falso e aggiungo tra due giorni inizia il tanto discusso G7 cultura a Napoli e Pompei la faccenda san giugana è chiusa basta finito non ci dobbiamo aspettare nient'altro ma io non so perché ormai le sorprese sono talmente tante che dire non arriva nient'altro sarebbe veramente è ardito tu dici è azzardato da parte mia io quello che voglio dire è sicuramente evidente che c'è un problema di comportamenti di serietà di coerenza della classe dirigente che è arrivata alla guida del paese insieme a Meloni che è un problema ma è un problema serio anche perché è un problema che crea enormi difficoltà al governo non lo fa concentrare sulle scelte Dave è ogni giorno impegnato a fare zig zag tra vicende che certamente sono non sono vicende clamorosamente importanti per il destino per il futuro dell'Italia però creano intanto sconcerto creano in qualche volta violazione di quelle che sono le procedure democratiche creano conflitti di interesse cioè se d'altra parte la Meloni ne è anche molto consapevole perché se ricordate prima che esplodesse tutto il caso con le dimissioni aveva richiamato nel primo incontro con i suoi parlamentari aveva ha detto dobbiamo essere seri concentrati inattaccabili quindi se uno dice si aveva anche detto non è che lo posso essere solo io datemi una mano questo era il messaggio anche dicendo guardate se non lo fate non va bene sembrava ci fosse anche un sottinteso allora non potete restare al vostro posto siete arrivati molto in alto adesso comportatevi bene fate le cose nella maniera nella maniera giusta ecco questa parte della sua azione di governo io credo che la Meloni la debba affrontare rapidamente magari anche allargando classi dirigenti coinvolgendo altri soprattutto richiamando i suoi a un comportamento che deve essere all'altezza di un governo che dice e spera e probabilmente sarà così e fare la storia almeno arrivare alla fine della legislatura insomma per realizzare il suo programma hai ridimensionato le ambizioni però perché loro dicono di voler fare la storia non lo so lo vedremo quello poi lo giudicheremo alla fine della legislatura lo giudicheranno gli elettori no è anche possibile alcune molte cose buone le sta facendo le ha raccontato anche Patellaro quindi non voglio sminuire insomma è così allora facciamo una cosa spostiamoci dall'altra parte perché diciamo i guai non mancano anche di là pochi minuti prima che andassero in onda tagadà il foglio scodella questo scoop esclusiva ecco la lettera di Beppe Grillo a Giuseppe Conte siamo a tre sì sì sei un autocrate qui siamo al miele puro miele di acacia sei un autocrate ipocrita segnalerò le tue minacce distruggi i presidi della democrazia la risposta in realtà è arrivata non in maniera diretta i bravissimi colleghi dell'Agi hanno sentito alcuni parlamentari fonti del Movimento 5 Stelle stop al carteggio avrebbe detto Conte a Grillo non rispondo più eccolo qui parli con i legali parli con i legali nel frattempo Luca aiutami reazioni chi sta con chi tu che li incontri avrai fatto i tuoi numeri i tuoi conti allora a livello di gruppo parlamentare Tiziana ti direi quasi tutti con Giuseppe Conte poi ti dicono a Beppe vogliamo bene però insomma è difficile trovare dei parlamentari pronti a seguire il fondatore del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto è tra i più vicini un deputato campano ma sono Castellone Marione Castellone al Senato ma per il resto sono soprattutto gli ex a essere vicino a Grillo tra cui Raggi devo dirti però che mentre va avanti questo botta risposta qui si dà per ormai certo lo slittamento della Costituente che è un po' il nodo su cui si stanno confrontando Grillo e Conte era prevista per l'ultima settimana di ottobre mi pare il 20 ottobre dovrebbe slittare di almeno un mese ufficialmente per le troppe proposte suggerimenti che sono arrivati dalla base più di 22 mila documenti da analizzare quindi serve tempo certo è difficile non mettere però in relazione anche un dubbio viene un sospetto viene ma poi ciò facciamo spiegare da Antonio intanto facciamo un ripasso non ci si sta dietro perché tu prepari diciamo le dichiarazioni fino a un'ora prima della trasmissione poi ne arriva un'altra quindi ci perdonerete manca l'ultimissima vediamo il confronto Grillo-Conte sono l'elevato silenzio io non accetterò mai mai di vivere in una comunità in cui c'è un soggetto sopraelevato io non sono il padre padrone del movimento io sono il papà o il genitore padrone che ne contrasta l'emancipazione ora bisogna che Conte cominci a avere un po' di merda io non faccio polemica con Grillo Conte è un gentleman non riesce a dare degli ultimatum abbiamo una visione diversa è uno dei più grandi specialisti dei penultimatum fortuna ho il senso dell'ironia raccogliete progetti mandateli a Conte Conte prima o poi li capirà sono dispiaciuto e anche sorpreso sconcertato ci vuole il suo tempo ma poi li capirà chapeau forse magari non è la persona più adatta di quello che serve oggi al movimento purtroppo dopo queste uscite non siamo più sentiti non mi ha più chiamato stiamo uniti se possiamo e poi se qualcuno vuol fare una scelta diversa la farà non ho nessun grillo per la testa state tranquilli Allora prima in ordine Luciano Fontana e poi Antonio Padellaro vi devo chiedere velocità purtroppo perché ci siamo un po' allungati però voglio assolutamente sapere di che storia stiamo parlando perché oggi leggo si sono sempre detestati ma è una questione personale di carattere o insomma c'è dell'altro qual è la posta in gioco Luciano Fontana? Beh intanto si mistia un po' tutto probabilmente c'è anche una questione personale di carattere che non si prendono tanto io penso che Conte abbia fatto una scelta politica molto determinata cioè portare quello che resta del Movimento 5 Stelle in un campo progressista per costruire un'alleanza competitiva per il Paese Beppe Grillo da una parte non accetta come dire la possibilità che Conte sia il leader indiscusso di questo movimento e da altra parte anche a un'idea un po' un po' diversa che è legata più alle origini io credo che politicamente forse Conte ha ragione non vorrei stare nei suoi panni perché certo Grillo lo tempesterà e tormenterà per i prossimi mesi non aiuterà Antonio? Allora io penso ai poveri elettori del Movimento 5 Stelle che non sono pochi anche se sono molti meno dei momenti alti del Movimento quando vinse le elezioni siamo intorno all'11 credo ecco penso a questi poveri elettori i quali appunto Grillo diceva sono il papà avete presente quelle cause di divorzio terrificanti delle quali appunto viene chiesto ai poveri ci ho aperto dicendo vuoi stare con mamma o con papà questo alla fine vuoi stare con mamma o con papà ecco è la stessa identica cosa tra l'altro con scambi di ingiurie che sono sì sono convinto non cesseranno allora al di là delle battute ma perché in fondo un elettorato che sbagliando facendo bene ha votato continua a votare sono milioni ancora per il Movimento 5 Stelle pensando a un cambiamento anche un cambiamento nel modo di fare politica deve essere trascinato in questa storia anche di personalismi perché adesso non stiamo qui non c'è tempo per dire ma è evidente che Grillo sta esagerando e non sopporta la presenza di Conte perché questo è il punto Grillo dice sono io 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 e voi e tu caro Grillo come da cognome diciamo ecco come da cognome sì quindi attenzione ecco e chiudo che l'elettorato potrebbe anche stufarsi di questo a proposi elettorato sondaggio SVG sondaggio radar di SVG lanciato pochi minuti fa dall'agenzia 74% degli elettori del Movimento 5 Stelle dà ragione a Giuseppe Conte soltanto il 14% sostiene il fondatore Grillo c'è una percentuale evidentemente di incerti nel caso di una scissione se Conte fondasse un nuovo movimento il 68% dei sostenitori pentastellati sarebbe dalla sua parte ecco adesso il punto vero è quanti di quegli elettori poi potrebbero rischiare di avere desiderio di essere orfani semplicemente e quindi abbandonare il Movimento 5 Stelle cioè può succedere persino quello grazie al Dottore Patellaro grazie a Luciano Fontana davvero sempre grazie per stare qui con noi ci fermiamo per qualche minuto e torniamo eccoci qua di nuovo in studio saluto Massimiliano Romeo presidente dei senatori della Lega sono molto contenta di ritrovarla grazie per l'invito buon pomeriggio a tutti saluto Flavia Perina firma della stampa amica del programma bentornata Flavia grazie a voi buon pomeriggio in collegamento Francesco Maria Del Vigo vice direttore del giornale evviva ben trovato Francesco grazie per l'invito buongiorno Alessio il nostro sondaggio che parte da un dato di cronaca anzi due il tema dell'immigrazione più volte speso in queste settimane il dato sugli sbarchi che è calato nel 2024 rispetto all'anno precedente quindi vi chiediamo sulla pagina Instagram di Tagadà questo callo è merito del governo Meloni sì no non so votate dopo approfondiamo e diamo i risultati e andiamo a vedere le politiche migratorie di questo governo Ludovica Cirie è a Strasburgo abbiamo ragionato la presentazione della squadra di Ursula von der Leyen della vicepresidenza esecutiva affitto che consideriamo francamente una gran buona notizia ma nel frattempo succede che c'è anche una conferenza stampa giusto Ludovica raccontaci esattamente di cosa si tratta per chi si fosse collegato solo adesso è ancora in corso al momento si sta parlando di Matteo Salvini del caso di Open Arms i Patrioti per l'Europa gruppo in cui rientra anche la Lega di Salvini qui a Strasburgo avevano già chiesto di trattare il tema in aula nell'emiciclo la risposta era stata negativa allora è stata convocata questa conferenza per esprimere solidarietà a Matteo Salvini per la richiesta di sei anni di carcere appunto della pubblica accusa ma soprattutto anche ti anticipavo prima Tiziana per in qualche modo anche attaccare l'aula di Strasburgo che ha respinto la richiesta di cui parlavamo prima infatti la primissima cosa che è stata detta prima ancora della solidarietà a Matteo Salvini è stato proprio un duro attacco alle sinistre che fuggono davanti ai problemi queste sono state più o meno le parole utilizzate e quindi vogliono fingere che il problema della migrazione dei migranti non esista e che quindi non se ne debba parlare peraltro c'è stato un duro attacco anche alla stampa la stampa di sinistra alla magistratura politicizzata parole che in qualche modo risuonano simili tra Italia e appunto anche Strasburgo sono temi spesso utilizzati e insomma in una frase diciamo ti riassumo se c'è una legge che prevede che un ministro che difende i propri confini debba essere punito allora va cambiata la legge e non certamente il ministro questa è una frase detta da Bushadet di Vox che in qualche modo riassume questa conferenza stampa che abbiamo seguito allora grazie per il momento Ludovica e poi ovviamente entriamo anche nel merito del fatto che si sposta la questione si porta la questione anche ad un livello internazionale diciamo dando vita a questa conferenza stampa però prima di cosa stiamo parlando le ultime 48 ore il caso Open Arms e tutto quello che abbiamo sentito appunto negli ultimi due giorni vediamolo e arrivo dagli ospiti il processo Open Arms secondo Matteo Salvini mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani risuona l'eco dei processi a Silvio Berlusconi di quando il PDL guidato da Angelino Alfano marciò sulla scalinata del Tribunale di Milano lo scontro con le toghe è storia antica per il centrodestra italiano stavolta però è il terreno su cui si svolge che conta la lotta all'immigrazione clandestina la madre di tutte le promesse elettorali io ricordo che in Italia ci sono state tante tragedie anche tragedie del mare anche sotto governi di centrosinistra e sono iniziate indagini sugli scafisti non sui ministri i fatti risalgono al 2019 quando ministro dell'interno del governo gialloverde Salvini negò per giorni un porto sicuro ai migranti salvati dalla ONG spagnola ma da vicepresidente del consiglio in carica il leader della Lega che rischia sei anni di carcere per sequestro di persona ha già raccolto la solidarietà di tutta l'attuale maggioranza incredibile che qualcuno ipotizzi di metterlo in galera perché ha fatto il suo dovere come ministro la linea l'ha dettata a Giorgia Meloni che pure due anni fa in quella casella preferì mettere un ex prefetto ieri come oggi l'immigrazione è un terreno troppo sensibile per lasciarlo nelle mani dell'alleato che ora finito sul banco degli imputati proprio per aver cercato di fermare gli sbarchi rilancia chiamando tutti alla mobilitazione Salvini chiama a un popolo che l'ha votato a lamentarsi e in maniera pacifica se la richiesta dell'accusa sarà confermata noi faremo una battaglia politica un risultato il leader della Lega lo ha già incassato la nuova centralità acquisita in queste ore e tutti con Salvini il suo partito riunito ieri per il Consiglio federale e il governo persino Forza Italia se c'è qualcuno che si deve dimettere sono quelli che fanno i comizi in tribunale la magistratura si pone in una posizione eversiva nei confronti dello Stato allora senatore Romeo ieri avete fatto un Consiglio federale c'è questa mobilitazione qual è il punto dal suo punto di vista? Il punto è che la mobilitazione è dettata dal fatto innanzitutto partendo dal presupposto che è davvero incredibile che Salvini rischi nel senso rischi una condanna di sei anni fondamentalmente per sequestro può rischiare persino di più perché per sequestro di persone è fino a 15 anni la richiesta del pubblico ministero ma magari il giudice può essere più severo diciamo rischi al carcere fondamentalmente per aver tenuto nel senso questi sei giorni perché sono sei giorni poi il capo di putazione in mare la barca open arms la nave open arms e quindi per non averli fatti sbarcare quando ci sono dei casi ce ne sono diversi più di 13 che mettono in evidenza come in altre situazioni la prassi abbia addirittura obbligato a tenerli in mare più tempo ottobre 2019 quindi cade il governo il ministro Lamorgese c'è la ocean biking e resta in mare più di 12 giorni prima di farla sbarcare ma è successo e questo era il governo conte 2 conte bispo è successo anche durante il governo Draghi 29 marzo 2022 la Geo Barenz che con 113 persone a bordo resta in mare più di 12 giorni addirittura ai tempi ci fu un un giornale l'inchiesta che aveva sostanzialmente messo in evidenza come insomma dai porti sicuri di Salvini si fosse passati ai porti indifferenti della Lamorgese perché c'erano 12 persone erano medici senza frontiere che avevano fatto questo appello dice non è possibile che restiamo allora perché perché la Prassi vuole in tantissimi casi che prima di farli sbarcare ci sia tutta una serie di verifiche da fare c'era il tema della ridistribuzione che era una linea politica prima si ridistribuisce e poi dopo si fanno sbarcare allora non si capisce perché Salvini viene imputato e quindi va sotto processo adesso c'è una richiesta di condanna e altri ministri che li hanno tenuti più giorni in realtà a loro nessuno fa notare nulla allora lei ha messo sul tavolo una serie di questioni cioè questo è un dato su cui entro nel merito delle singole questioni e poi ovviamente do la parola a Flavia Perina e a Francesco Mede del Vigo la prima questione che lei pone ai giorni mi risulta che i giorni fossero 19 quelli dell'imbarcazione di cui stiamo parlando cioè della vicenda open arms perché il capitano come mai fosse perché il capitano continuava a girare intorno ma da quando chiede il porto sicuro sono sei sì ma le persone che stavano sulla barca erano a quel punto a sei più e lì bisognerebbe chiedere al capitano a meno che non li abbia sequestrati anche il capitano della barca della nave lei dice ci sono state altre circostanze lei sa bene che due errori non fanno una cosa giusta ovviamente fosse stato un errore anche in quelle altre circostanze questo non rende meno grave quello che ha fatto Salvini nel caso tutti dovrebbero essere quel punto io le dico questa cosa perché noi lo raccontammo quando rimanevano le navi dell'Arnogese senza porto sicuro noi lo raccontammo in questo studio rilevando esattamente quello che lei sta dicendo ci sono le registrazioni quindi si può vedere ma la mia opinione è che gli errori non si annullano tra loro l'altra questione è che lei dice linea politica era quella della ridistribuzione la linea politica di chi però della ridistribuzione prima di farli scendere a terra la domanda è del governo ma se Conte scrive ti ho detto di farli scendere se gli altri ministri non firmano insieme a Salvini è la linea politica di Salvini no era la linea del governo Conte è la linea del governo e però Conte scrive ribadisco il 15 di agosto Conte scrive guardi ti ho detto di farli scendere allora tenga presente che sarebbero potuti scendere compilando un modulo alla guardia costiera che dipende dal ministro dei trasporti che ai tempi era Danilo Toninelli quindi adesso poi tutte queste cose qui verranno fuori io non è che voglio fare l'avvocato difensore di Salvini perché c'è Giulia Buongiorno c'è Giulia Buongiorno che è bravissima era una linea di tutto il governo che si aveva deciso prima si distribuisce e poi dopo alla fine si fanno sbarcare poi era anche quella una fase se non si ricorda male una fase appunto il mese di agosto con tutte le vicende che poi erano avvenute e quindi con dei cambiamenti con delle cose che stavano succedendo era la politica che era stata scelta dal governo fin dall'inizio quindi fin quando c'è il governo la linea scelta dal governo di cosa stiamo parlando intanto siccome io ho sempre paura di ricordare male Danilo Toninelli avevo filmato il decreto perché chi non rispetta il diritto del mare non può sbarcare in Italia è stato bocciato dal Tare metterne un altro identico esporrebbe la parte seria del governo al ridicolo quindi si sottrae Danilo Toninelli che era ministro siamo al 15 agosto del 2019 sostanzialmente con la stessa motivazione si sottrae Elisabetta Trenta e poi c'è il premier Conte che scrive direttamente lettera aperta scrive direttamente a Salvini tant'è che Salvini fa un posto in cui dice sono da solo perché tutti gli altri hanno paura Flavia Perina beh qua ci sono due questioni una è la questione Polia che non sfugge a nessuno quella era l'estate della crisi del governo Salvini Conte in cui Salvini immaginava di poter andare al voto e fare il pieno di consensi poi non è successo perché è arrivato il Conte 2 e quindi in qualche modo era interessato a porre questa faccenda dell'immigra a porsi come campione della politica dei porti chiusi lui va a processo non tanto perché la difesa dei confini o le molte cose che si sono dette ma va a processo per un voto parlamentare in Senato il Senato vota e di fatto chiede il processo per Salvini quindi la magistratura in questa circostanza a me sembra fa un atto dovuto perché c'è l'autorizzazione è del tutto incolpevole riguardo a questo è stata delegata dal Parlamento Italiano quindi dal massimo organo legislativo del paese a compiere degli accertamenti che compierà con tutta serenità con un esito che vedremo la questione politica adesso continua perché che cosa succede anche con la conferenza stampa del gruppo dei patrioti a Bruxelles nella prospettiva se Salvini viene assolto è ovvio che viene legittimata la politica dei porti chiusi si poteva fare che non è è una politica che il governo Meloni ha rinnegato perché ha girato da un'altra parte e invece ha aperto un altro tipo di strategia politica il piano Mattè per l'Africa gli accordi con i paesi rivieraschi al limite alla questione albanese che vedremo come finirà sicuramente la vecchia strategia dei porti chiusi di Matteo Salvini non è l'attuale strategia di Giorgia Meloni quindi io vedo in questa conferenza stampa fatta oggi a livello europeo anche in qualche modo un sottofondo di ostilità nel D-Day della Presidente del Consiglio che raggiunge un ottimo risultato un ottimo risultato in un accordo con von der Leyen che dà un ruolo importante a Fitto la vicepresidenza esecutiva che tanto si desiderava i patrioti stanno da un'altra parte ad accusare il Parlamento europeo di non aver aperto questo dibattito e le forze diciamo del governo europeo di essere di essere indifferenti al problema dell'immigrazione quindi a mio giudizio è un conflitto tutto politico che comincia all'epoca ma che continua Francesco Maria Del Vigo tra le varie cose che abbiamo sentito dire da Salvini in quel video estremamente drammatico cioè in cui c'è lo sfondo nero vediamo un alternarsi di primissimi piani e piani americani insomma c'è anche una regia una drammatizzazione voluta molto cinematografico in quel video lì Salvini tra le altre cose dice che viene processato perché ha difeso i confini italiani siamo sicuri che il punto sia che tu difendi i confini o anche uno ha diritto di chiedersi come li difendi no bisogna certo chiedere come li si difende però io credo che come dire il processo nei confronti di Salvini è assolutamente un processo politico perché senza l'autorizzazione del senato non saremmo arrivati a questo punto ma la richiesta di sei anni come dire e la richiesta avanzata dai pubblici ministeri è abbastanza politica non è solo giudiziaria cioè c'è stato l'assistore della politica dopo il che è arrivata questa richiesta mostruosa con un'accusa che io trovo piuttosto ridicola ricordiamoci che prima di questo caso cioè prima del caso open arms c'era stato anche il caso di Ciotti per cui Salvini è stato riporto sotto ecco era praticamente identico a questo e tutti i ministri dell'allora governo giallo-verde votarono e firmarono il documento di Salvini per chiudere il porto allora qual è il tema a un certo punto scatta nel 2018 una volontà politica di far fuori Matteo Salvini a tutti i costi ricordiamoci ci sono anche delle intercettazioni c'è una intercettazione di Palamara che parla con uno di tanti magistrati che si trova alle prese con le carte di Salvini che dice ma non c'è quasi niente Palamara dice sì ma dobbiamo colpirlo perché in quel momento Salvini deve essere fatto fuori e Salvini di fatto viene fatto fuori cioè si tenta di farlo fuori con questo processo ammetto di tutto questo quindi dico ci rendiamo conto che sei anni però perdonami Francesco solo come fatto ricostruttivo siccome metti in fila Diciotti e open arms non sto dicendo con la nave Diciotti avevano firmato tutti i documenti tutti i ministri compreso il presidente del consiglio con open arms Salvini rivendica il fatto di essere l'unico a decidere cosa fare o cosa non fare il consiglio di Danilo Toninelli che il giorno dopo diceva che era totalmente d'accordo con Salvini vi invito a andarvi a vedere Vito però ci sono i documenti ufficiali no se no ricostruiamo male ma infatti quello che sto dicendo io è per quale motivo in un caso simile firmano tutti e in questo caso non firmano perché è cambiato il contesto degli eventi o perché è cambiato il contesto politico e perché Salvini in quel momento anche compice il papete non è una justificazione il papete può essere un atto politico disgraziato non va punito con sei anni di carcere credo ecco va punito magari con una scopita elezioni se qualcuno lo reputa illegittimo però quello che succede è tutto politico a un certo punto nel momento 5 stelle decidere di scaricare Matteo Salvini perché è troppo ingombrante perché ha fatto il papete perché dà fastidio per qualunque motivo e poniamo che tu abbia ragione che cosa c'entra la magistratura la quale ad un certo punto fa un atto dovuto il Parlamento vota che è processabile la magistratura processa dopo di che c'è un accanimento della magistratura ricordiamoci che sono più di uno i processi che sono stati accesi attorno a Salvini ricordiamoci che la magistratura una certa magistratura ha sempre detto e voluto mettere i puntini sull'inizio sostenendo che le politiche migratorie dello governo Salvini fossero sbagliate se non criminali e quindi che 5 anni però proviamo a stare sulle questioni fatemi sentire Gasparri per favore aspetta Francesco ritorno da te fatemi sentire Gasparri io ero relatore della vicenda fare a Palazzo Santivo il presidente della giunta per le immunità e le prerogative quindi ho studiato e risultato il caso io ho fatto una relazione che a mio avviso dimostra come Salvini abbia agito nel rispetto degli interessi del paese nel rispetto della costituzione altri hanno fatto la stessa cosa e non vengono indagati a dimostrazione che la magistratura in Italia colpisce verso il centrodestra e lascia immune altri ministri di altro orientamento che hanno fatto le stesse cose non hanno avuto nemmeno una multa per divieto di sosta la magistratura italiana è un problema l'azione di Salvini che ho studiato e ristudiato a suo tempo fu esemplare se c'è qualcuno che si deve dimettere sono quelli che fanno i comizi in tribunale la magistratura si pone in una posizione eversiva nei confronti dello Stato Senatore Romeo anche per lei la magistratura è eversiva? No io parto dal presupposto diverso nel senso che fu data un'altra autorizzazione al Senato nei confronti di Salvini per essere processato a Catania sul tema della nave Gregoretti situazione del tutto analoga e molto simile a quella di Open Arms in quel caso Salvini viene assolto allora qua si pone come dire qualche interrogativo uno se lo pone perché dice un caso analogo viene assolto e in questo caso non lo so c'è come dire la sensazione anche nella requisitoria del PM perché qui non è là è stato assolto qui c'è una richiesta di condanna perché il giudice non si è ancora espresso quindi anzi siamo alle parole del pubblico ministero dell'accusa la requisitoria che è quello che insomma ha fatto notare anche Giulia Bongiorno è tutta incentrata sul tema molto politico cioè del fatto di smontare i decreti sicurezza fatti da Salvini cioè non è una requisitoria puntuale su alcuni aspetti che ma soprattutto a livello politico e un pubblico ministero non dovrebbe scendere nel politico dovrebbe contestare i fatti questo apre come dire uno scenario che diciamo così crea qualche interrogativo poi sono d'accordo la questione è squisitamente prettamente politica il Parlamento autorizza ad amandare il processo un ministro quindi non riconoscendo quella l'articolo della Costituzione che garantisce il fatto che il ministro agisca nell'interesse del suo paese dice che non ha agito nell'interesse del paese ma questa è la sconfitta della politica è la sconfitta della politica almeno di una parte la politica in generale portata avanti da una parte politica precisa che nella sua storia ha sempre cercato di combattere l'avversario non attraverso le idee e di contrastarlo con le idee ma nelle aule giudiziarie e quindi questo richiama quello che anche prima il vostro servizio diceva ai tempi di Silvio Berlusconi Salvini non riesco a sconfiggerlo con le idee e allora a quel punto perché anche un partito superipergarantista almeno fa il paladino dei garantisti con Renzi Tagliaviva in questi casi anziché votare guardando e verificando davvero che Salvini aveva un ministro aveva agito dell'interesse nazionale pur probabilmente di contrastare l'avversario politico scende sullo stesso terreno sul quale lui rivendicava i tempi di essere che la sinistra doveva la sinistra doveva battere Berlusconi non attraverso e lui cade nello stesso errore allora lei capisce che garantisti con gli amici e giustizialisti con gli avversari è una roba che non sarebbe un inedito è un po' tutta italiana molto italiana e non un inedito ma ci sta viceversa che si sia ritenuto che Salvini non abbia agito nell'interesse della nazione ma secondo lei un ministro che ferma il fatto che uno abbia avuto il mandato e gli elettori non giustifica automaticamente quella che viene considerata una violazione internazionale questa è l'ipotesi mi perdoni ma nel momento in cui hai le navi in fianco salgono a bordo le persone che stanno male scendono le altre vengono assistite c'è tutto il monitoraggio costante e continuo di queste persone che non sono in pericolo come si fa a dire che questa sia una politica che è una politica che voleva far sì che prima venisse alla distribuzione e poi sbarcasse una politica come ripeto che era stata seguita da tutto il governo e io dico a questo punto se fare la volontà e rispettare la volontà dei cittadini cercando di utilizzare un metodo che può essere contestabile politicamente ma un metodo che aveva raccolto dei frutti notevolissimi perché gli sbarchi si erano ridotti morti in mare erano calati vertiginosamente viene messo sotto processo e lei capisce che qualche ripeto qualche problema dal punto di vista politico io ce l'ho c'è sempre la questione del come perché anche con il governo Meloni che adotta politiche differenti c'è un caldo degli sbarchi dei migranti aspetti Alessio che succede tra l'altro avevo Francesco Maria del Vigo e Temo sia andato via e voleva intervenire mi dispiace moltissimo ma non riuscivo a fermare Romeo colpa di Romeo colpa mia colpa di Romeo prego Alessio la replica dell'ANM con il presidente Santa Lucia dire che l'atto del ministro non sia censurabile è un qualcosa che è fuori dalla Costituzione l'atto politico è una categoria residuale qui parliamo di un atto amministrativo atto amministrativo è tutta qui la questione chiedo la questione è tutta qui è impensabile sostenere appunto che l'atto di un ministro di qualsiasi ministro in tutta la storia italiana abbiamo avuto i tribunali dei ministri che sono fatti appunto per giudicare gli atti di ministri perché non è che sono leggi bussolutus sono soggetti alle regole come ogni altro cittadino nella fattispecie la regola è una regola internazionale del diritto del mare che dice che quando c'è un naufrago devi assegnargli un porto sicuro sarà la magistratura a valutare la misura in cui questa regola non è stata è stata non è stata rispettata secondo l'accusa che fa il suo lavoro la regola non è stata rispettata perché il porto sicuro per molti giorni non è stato assegnato dopodiché proprio i precedenti diceva prima il senatore è stato assolto per un processo analogo magari è assolto anche da questo un centrodestra di governo in cui Matteo Salvini ricopre oggi un ruolo molto importante quello di vice premier di fronte a un'inchiesta di questo tipo che riguarda appunto l'applicazione di regole internazionali deve consegnarsi diciamo al giudizio dei tribunali e della legge non si può sostenere aspetta Flavia perdonami ti interrompo soltanto perché vedo Luca Sappino che si accompagna con degli esponenti del Movimento 5 Stelle o meglio vedo camminare sicuramente Silvestri eccoci vai 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 sto letteralmente accompagnando Silvestri e Ligheri siccome non deve essere facilissimo oggi parlare con gli esponenti del Movimento 5 Stelle che non è proprio una buona giornata non so se loro hanno ricevuto lettere per dire che si avvicina a questa coppia voi anche avete ricevuto un lettero meglio Pec perché Grillo dice se volete cambiare nome se volete cambiare il Movimento 5 Pec no io non voglio cambiare nome mi chiamo Francesco Silvestri e mi piace tantissimo tra l'altro il mio nome lei ha capito quale è il problema il Movimento 5 Pec sta poi allora ragazzi normalizziamo fermiamoci un secondo così la chiude normalizziamo un attimo questa situazione quando ci sono rinnovamenti all'interno di qualsiasi struttura ci sono sempre dei dibattiti interni è successo nel Partito Democratico ma non è vero c'è stato con Merlusconi e Fini con Renzi Cuperlo Bersani Bianco e Buttiglione ci sono state dei dibattiti poi andati più o meno bene ma i dibattiti accessi ci sono sempre stati in questo momento c'è un dibattito di diversità d'opinione tra Conte e Grillo se la vedrà ma il Movimento 5 Stelle ne parlavamo adesso con Ettore Liccheri nel Movimento 5 Stelle sono le 22.000 proposte che sono arrivate che portano a uno slittamento alla Costituente che è un po' quello che vuole Grillo ma lascia stare il quando il punto è il perché 22.000 documenti di partecipazione per un movimento con l'astenzionismo che c'è con la disaffezione alla politica che c'è sono una cosa importante i gruppi parlamentari Camera Senato fanno battaglie tutti i giorni noi adesso stiamo impedendo le cavolate che stanno facendo sul decreto sicurezza siamo molto affezionati siamo molto affezionati a Silvestri però io lo fermerei solo un secondo e chiederei se lui vuole più bene a mamma o a papà cioè adesso al netto delle battute qui c'è una questione di separazione vera in atto quindi arriviamo ad una scissione qual è il punto? una scissione Tiziana se ho capito bene tra Grillo e Conte voi state con Conte in quanti stanno con Grillo? siamo già alla divisione dei beni? eh sì non siamo diciamo non siamo sul giornale a evocare una scissione immaginate se facessi questa domanda a mia madre e mio padre che diceva ci vuoi già far morire perché vuoi la nostra eredità no intanto vogliamo bene a tutte e due ovviamente lasciamoli dibattere e noi siamo molto concentrati invece su quello che è la traiettoria futura del Movimento 5 Stelle lo accennava Luca poco fa è comparso mentre stavano parlando Silvestri e Liccheri un post di Beppe Grillo su Facebook Movimento 5 Pec consigli per il nuovo simbolo i consigli che Beppe Grillo darebbe a Giuseppe Conte eccolo qui purtroppo la famiglia non si ricompone mi pare di poter dire se ne facciano una ragione Liccheri e Silvestri Luca a chiudere però perché voglio tornare in studio in studio l'ennesimo post 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 di Grillo ma il punto è il posizionamento politico tra i punti voi avete capito c'è non la consulenza di Grillo c'è il posizionamento politico dei 5 Stelle nel campo largo cioè al fianco il PD sì c'è una diversa visione del Movimento 5 Stelle ma questo insomma è chiaro che insomma Beppe Grillo l'ha detto Beppe l'ha detto per me vale il Movimento delle Origini quello con il mio simbolo io garante con il però quello che si dice è più degradabile forse invece sì fatti ma non c'è un voi e Conte c'è il Movimento 5 Stelle quindi non non chiamiamoci per nome voi e Conte Raggi e Grillo questo non ci siamo la diversità non va grazie a Silvestri e a Lichieri perché poi questa difficoltà a parlarsi non hanno l'auricolare e li ha fermati per strada senta Romeo ci avete governato insieme e fai gli auguri no? ma sinceramente non è mai piaciuto entrare nelle dinamiche degli altri partiti perché ognuno è meglio che guardi in casa propria l'auspicio e l'augurio che faccio al Movimento 5 Stelle è che trovi al più presto la propria visione futura la propria stabilità e che sia diciamo così un partito avversario da contrastare sul campo delle idee perché noi non è che auguriamo il male degli altri auguriamo il bene di tutti con la speranza di riuscire poi ad affermare le nostre idee così non parliamo di casa loro il Consiglio Federale d'Urgenza l'avete fatto il congresso quando lo fate? l'avete rimandato un'altra volta? no ci sono ancora 8 congressi regionali che devono essere fatti prima di fare quello nazionale federale e penso che a fine novembre questo è quello che ha detto Matteo Salvini si cominceranno a fare questi congressi regionali quindi si presuppone che tra fine novembre e metà finalmente si riesca a fare questa a finire a partire dalla Lombardia dove lei sa che io sono uno che ha già annunciato che sarò che ho l'intenzione di candidarmi poi naturalmente ci possono essere anche altri candidati anzi è giusto che ci sia anche un confronto come è giusto che i congressi sono soprattutto confronto politico e per fare in modo che si possano anche tante volte confrontarsi delle tesi anche politiche che possono magari anche dare un arricchimento importante per il movimento e quindi aiutare e stimolare e rafforzare il nostro segretario grazie come segretario della Lighe Lombardia vi riaprite per favore Ludovica Ciriello da Strasburgo così poi salutiamo Ludovica che da stamattina che segue tutte le cose che succedono lì novità Ludovica allora Tiziana ti volevo dire un dettaglio se lo è abbiamo seguito fino all'ultimo la conferenza dei patrioti ad un certo punto è entrato il generale Vannacci perché è un dettaglio perché i giornalisti avevano fatto notare che la sua era l'unica assenza nelle fila dei parlamentari degli europarlamentari della Lega a chi aveva organizzato la conferenza in un primo momento ci hanno risposto no niente di rilevante era impegnato non era previsto poi però in qualche modo lo sono andati a recuperare e lui è arrivato questo sarà un dettaglio però racconta un po' forse anche un clima che ogni partito ha i suoi problemi al di là dei 5 stelle è un problema Vannacci ti chiedo davvero in un telegramma io per curiosità quando insomma sono uscite tutte le dichiarazioni sul processo a Salvini sono andata a leggermi la dichiarazione di Vannacci che è straordinariamente moderata riguardo a questo caso diciamo si affida alla magistratura e ti stupisce lui è sempre così moderato ecco non la ricordo a memoria adesso però mi ha stupito perché sicuramente assai più moderata di quella di Gaspari è assai più tiepida anche esprime ovviamente solidarietà a Salvini ma non sembra scaldarsi troppo per questo caso ne sembra avere nessuna intenzione di mettersi nella prima linea della difesa del segretario del partito che lo ha portato all'Europarlamento quindi immagino affetto sì ma non troppo va bene ma ci siamo già tutti noi che stiamo ci stiamo mobilitando non c'è mica bisogno con la nostra forza in questo caso qui se no siamo troppi è certo è una notizia appena battuta dall'agenzia che ci porta in Medio Oriente un boato è stato sentito poco fa nella periferia sud di Beirut Roccaforte di Ezbolla lo riferiscono fonti sul terreno in contatto con l'agenzia ANSA per ora si parlerebbe di dieci feriti non di decessi però la notizia è stata battuta proprio poco fa e a molti asterischi a segnalare il peso specifico ovviamente seguiamo con grandissima attenzione grazie davvero agli ospiti per essere stati con noi ci fermiamo è già arrivata Rosi Bindi qualche minuto e torniamo eccoci qua di nuovo in studio sono molto contenta di ritrovare Rosi Bindi buon pomeriggio buon pomeriggio diciamo che gli argomenti non mancano mettiamola così la prima cosa che le chiedo è avrà visto immagino con attenzione il video di difesa di Salvini ha presente quello con lo sfondo nero i primissimi piani poi il piano americano quei quattro minuti trasmessi da Rai News 24 ecco mi dice che impressione le ha fatto quel video ma guardi io faccio molta fatica a trovare un termine per definire questa situazione che mi preoccupa moltissimo da tanti punti di vista non sono una linguista quindi magari non è un grande problema una grande notizia che non trovo la parola però qui siamo veramente di fronte a qualche cosa di molto grave per la vita del nostro paese per il nostro ordinamento giuridico per la separazione dei poteri per la difesa dei diritti delle persone del diritto allora ha invocato due argomenti Salvini lui rivendica di aver difeso i confini della patria e del paese e a me è piaciuta molto la conclusione della 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 pubblico ministero a conclusione della sua requisitoria quando ha chiesto di rispettare i confini del diritto e quindi gli unici confini che vanno rispettati davvero sono quelli del diritto del diritto internazionale del diritto del mare e direi dei diritti fondamentali delle persone questo è il confine vero sì e poi forse quando difendi i confini del tuo paese dipende da come li difendi cioè non è detto che ti debba difendere offendendo un altro diritto prima di tutto seconda cosa che secondo me è altrettanto grave ha invocato l'articolo della costituzione che ci richiama alla difesa della patria alla sacra difesa della patria che è un principio fondamentale chiaramente che dobbiamo tutti rispettare perché come cittadini dobbiamo tutti essere fedeli alla costituzione stiamo difendendo la patria da chi dai bambini dalle donne dai disperati del mondo sono questi quelli che attentano alla sicurezza del nostro paese mi maraviglia molto questo affermato da una persona che è amica di Putin che l'ha invaso davvero con le armi con i soldati con gli eserciti di un altro paese e però mi perdoni quindi Salvini dice attenzione noi siamo stati votati siamo stati votati su un programma preciso e utilizza questa questione della fiducia degli elettori come se il voto popolare rendesse immuni diciamo dal giudizio della magistratura sì ma questo è questa è la cultura costituzionale giuridica di questa destra per Berlusconi il voto popolare era il lavacro di fronte ai reati dei quali era accusato per Salvini il voto popolare il programma politico la propaganda nei confronti di un argomento così delicato come quello dell'immigrazione lo solleva dal rispetto del diritto dal rispetto della sicurezza e della dignità delle persone da tutte le leggi del mare da tutti gli accordi internazionali guardi io mi sono presa mi sono letta la devo rileggere ancora con attenzione perché è molto lunga la requisitoria della pubblica ministero non c'è una considerazione che non sia frutto di una di una norma di una norma di diritto internazionale costituzionale degli accordi che sono stati siglati non c'è una ricostruzione dei fatti che non abbia una sua documentazione adeguata quindi lei dice esattamente il contrario di una requisitoria di tipo politico esattamente e dispiace siccome è un documento molto impegnativo dovremmo invitare tutti a leggerlo perché continuare a fare una propaganda è estremamente pericolosa primo per il rapporto politica e magistratura in questo paese qua siamo di fronte a un fatto evidente cioè il ministro Salvini prima della doverosa inchiesta portata avanti dalla procura di Palermo ha avuto il giudizio del tribunale dei ministri che è un collegio formato da tre magistrati i quali hanno chiesto l'autorizzazione a procedere al Parlamento e il Parlamento l'ha concessa a quel punto per quale motivo un pubblico ministero non deve fare il suo dovere violerebbe la legge la sua stessa professione quello per cui ha giurato è un atto dovuto banalmente però le chiedo è un atto dovuto però le chiedo siccome lo scontro tra politica e magistratura e me in questo paese appunto non è un inedito lei stessa ricordava il precedente di Berlusconi la cosa che le chiedo è se siamo davanti ad un salto di qualità le faccio l'elenco Gaspari ha parlato addirittura di magistratura eversiva ma io ho messo in fila una serie di dichiarazioni sono intervenuti su questa vicenda in modo più o meno esplicito con frasi più o meno sibilline il ministro della giustizia il ministro dell'interno il presidente del senato la presidente del consiglio Salvini stesso Orban in questo momento è un vicepresidente del consiglio no ma parlo della politica italiana delle istituzioni italiane e quindi diciamo di poteri dello Stato che si confrontano mettiamola così c'è o non c'è un salto di qualità nello scontro tra politica e magistratura diciamo che c'è un salto di qualità in senso assolutamente negativo e preoccupante da parte della politica nei confronti della magistratura e i termini che stanno usando sono termini estremamente pericolosi la sovranità popolare si esercita nel rispetto della legge e nel rispetto della Costituzione è il primo articolo della nostra Costituzione per loro questo è un incidente di percorso noi ci troviamo di fronte a qualche cosa di molto grave perché per portare avanti la politica e le idee e la propaganda sulla quale si sono presi i voti si sono tenute per 19 giorni 147 persone senza assicurare loro un porto sicuro e questa scusatemi banalità che viene detta la ridistribuzione la ridistribuzione avviene dopo che uno ha salvato una vita è successivamente che gli stati se la vedono tra di loro ma questo non può pesare sulla vita delle persone la prima cosa che si fa si salva una persona in mare ma quanti ne stanno morendo senza che noi lo sappiamo in questo momento perché oltre la guardia costiera e le poche ONG alle quali ancora ha concesso di stare nel nostro mare mediterraneo quando salvano qualcuno sanno perfettamente che quando tornano verso il porto per assicurare loro sicurezza ne lasciano ancora centinaia lì allora noi siamo in questa situazione la nostra civiltà occidentale che vogliamo giustamente difendere è fondata sui diritti umani lei sa bellissimo che l'obiezione di Salvini che sarà l'obiezione della difesa non correvano più nessun pericolo erano sulla barca le donne e i bambini sono state fatte scendere poi c'era la questione che chi era malato sono saliti i medici è stato fatto scendere tant'è che nella conferenza stampa che seguivamo quella a Strasburgo l'esponente della Lega che si è espresso contro il Parlamento che non ha messo all'ordine del giorno appunto la discussione su Open Arms tra le varie cose ha detto attenzione non erano più 147 persone erano poco più di 80 come se peraltro 80 fosse un numero rispetto al quale che importa ce n'era una era uguale no? suppongo dal suo punto di vista anche fosse rimasta una sola persona dal punto di vista della legge non solo mio e quanti giorni sono passati prima che venissero ascoltati i medici che razza di a che cosa è servito tutto questo sopra la pelle di queste persone che cosa si è consumato se non la propaganda di un politico che si è isolato dal resto del governo l'ha detto lui alla domanda c'erano dei pericoli di sicurezza c'erano dei terroristi no l'avevamo già accertato ma quelle persone restavano lì comunque tutto questo per quanto mi riguarda è documentato prima dal Tribunale dei Ministri e poi dalla requisitoria della Pubblico Ministero dopo il che ci sarà un processo ci sarà un giudice che si esprimerà chiaramente ci sarà un processo vediamo se qualcuno è in grado di leggere le norme in maniera diversa e di ricostruire i fatti in maniera diversa ma questo non c'entra niente con la politicizzazione della magistratura è grave tutto questo che è ben affermato tra l'altro mi permetta di dire una piccola cosa la magistrata della quale stiamo parlando è un pubblico ministero di lunga esperienza è quella che ha arrestato Provenzano ci troviamo di fronte anche da questo punto di vista sono tutti bravi i magistrati c'è qualcuno che ha più esperienza che magari ha più esperienza certo certo è chiaro ciò che vuole dire e quindi anche questo fatto vogliamo considerarlo è impensabile che chi lavora considerato ma tra l'altro Salvini è nelle mani della Buongiorno che è un ottimo avvocato della difesa e quindi sicuramente saprà portare le sue ragioni vedremo come va a finire il processo vediamo con le norme e come ricostruirà i fatti nel frattempo intanto una domanda ce la facciamo sulla serenità con cui il giudice dovrà esprimersi dopo che si sono espressi tutti i ministri la Presidente del Consiglio insomma sicuramente non è un compito facile quello del giudice che poi dovrà esprimersi di qui a qualche mese ma intanto intanto però la porto dall'altra parte la porto all'opposizione mi fa dire che quei magistrati che dovranno decidere sanno che devono rispondere anche loro solo alla legge non c'è nulla non all'opinione pubblica non alla propaganda non a Musk non ad Orban non ai tentativi di coinvolgere il Parlamento Europeo lo sanno perfettamente quindi io ho fiducia e dovrebbe avere fiducia anche la politica italiana no ma il punto è che tipo di messaggio poi arriva a tutti i cittadini anche no? appunto appunto perché se la politica se le istituzioni non si fidano dei magistrati perché ce li dovremmo fidare noi questo è un po' il punto il problema è che abbiamo abbiamo un governo ed è che i medici vengono assaliti nei pronto soccorsi mica si pensa di dare più soldi alla sanità e di aumentare i medici no si mettono norme penali si risolve si risolve tutti con i poveri Cristi si risolve tutto col carcere però i potenti non si toccano perché se per caso si ricorda a chi ha in mano la cosa pubblica che va rispettato la legge la magistratura è politicizzata ed è ingerente nei confronti della politica e allora bisogna costruire l'alternativa direbbe qualcuno sicuramente lo pensa e lo dice Elish Lai che ieri era in questo studio una parola che ha usato moltissimo e che abbiamo notato alla fine dell'intervista è la parola ricucire fatemela sentire in questo libro l'imprevista racconto proprio il percorso di questi dieci anni a cercare di ricucire una parte di quelle ferite e credo che questo tipo di ricucitura delle ferite del paese sia una parte importante di ciò che dobbiamo fare se ci poniamo il grande problema del 50% di persone che alle ultime elezioni europee non sono più andate a votare questa necessità che da democratici sentiamo di ricucire con chi non ci crede più con i tanti che non credono più che il proprio voto faccia la differenza provare davvero a ricucire dando il senso che c'è un altro modo per fare politica che rimetta al centro i bisogni concreti delle persone ricucire Bindi è la parola giusta? sì sicuramente perché è chiaro che c'è una ferita profonda nella vita del paese un distacco profondo tra la politica e i cittadini mi permetterei di dire che io spero che non ci sia bisogno di un'alternativa politica perché la politica rispetti la Costituzione ma no certo perché questo questo dovrebbe far parte proprio di tutto cioè la democrazia è questa cosa straordinaria per cui chi vince le elezioni governa ma governa e il paese non gli stravolge le fondamenta qui stiamo assistendo a questo quindi è chiaro che l'alternativa è ancora più importante no? e che a questo punto oltre che un'alternativa politica diventa un'alternativa costituzionale se i toni continuano ad essere questi se i ragionamenti sono questi se le politiche sono queste e a me fa piacere che il Partito Democratico abbia in questo momento alla guida una donna capace che ha capito quali sono anche diciamo i problemi cruciali che lei elenca sempre la sanità il lavoro la scuola tutte tutte quelle le problematiche molto concrete che sicuramente interessano ai cittadini molto di più di alcune di queste polemiche di palazzo che però purtroppo ricadono anche sui nostri diritti e sul nostro senso di civiltà e di convivenza spero che insomma tutto questo avvenga e giustamente deve avvenire io credo rimotivando le persone a fare la propria parte perché quello che si capisce in questo momento è che la minoranza del paese ha dato la delega ad una minoranza politica che non sta facendo bene all'Italia siccome la maggioranza è un'altra perché tra quelli che sono stati a casa e non hanno votato e quelli che hanno votato in un altro modo è evidente che la maggioranza è un'altra nel paese è una maggioranza che se non va a votare lascia che sia l'altra che sia la minoranza scegliere questa si chiama democrazia non c'è dubbio rafforza il voto cattivo chiaramente rafforza da una delega ad una minoranza che in questo momento sta ripeto facendo molto male all'Italia quindi è giusto che anziché attardarsi a discutere sulle alleanze sui partiti su chi entra su chi esce ti faccia una politica a sinistra che rimotivi i cittadini a fare la propria parte e quindi andare a votare per esempio anche perché nel frattempo le intenzioni del voto ci dicono che Fratello Italia non perde un solo elettore quindi anche quello qualche dubbio ce lo deve far venire Alessio le agenzie aspetti mi perdoni sono fuori tempo massimo due rapidi aggiornamenti il capodelegazione al Parlamento Europeo del Rassemblement Nazionale quindi le penisti l'onorevole Roberto Vannacci sospeso dal ruolo di vicepresidente dei Patrioti traduco è troppo pure per i Patrioti il generale Vannacci e poi l'apertura in questo momento di Corriere.it Libano eccola qui centinaia di miliziani di Hezbollah feriti esplosi cerca persone la più grave falla nella sicurezza nella guerra con Israele fanno sapere dal partito libanese che sia corpo militare sia corpo politico dopodiché quel frontellino abbiamo sempre guardato con grande preoccupazione perché stiamo parlando del fronte nord e adesso speriamo che questo non sia all'inizio di un inasprimento vero e insomma neanche lo voglio dire cosa dice Bindi? che se si continua a non fare niente né a Gaza né a Cisgiordania poi alla fine è certo è inevitabile quasi non ha confini quel conflitto lo sappiamo perfettamente che non ha confini grazie a Rosi Bindi per essere stata con noi grazie davvero ci vediamo presto spero noi invece ci rivediamo tra qualche minuto di pubblicità eccoci qua di nuovo in studio saluto Fabrizio Sala deputato di Forza Italia ben trovato come sta? buon pomeriggio benissimo grazie ma sono state buone vacanze? si rilassanti rilassanti ma ormai stiamo già lavorando da un bel po' di giorni no dico è pronto a Tagadà sì assolutamente sempre pronto per Tagadà Giacomo Salvini il fatto quotidiano ben trovato ben tornato a Tagadà grazie in collegamento Massimo De Manzoni con direttore della Verità ben trovato Massimo buon pomeriggio grazie e sono contenta di ritrovare da Strasburgo Sicilia Strada europarlamentare del Partito Democratico ex attivista dell'ONG per salvare i migranti in mare e viva buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti e a tutti allora il tema mettiamola così è quello delle politiche migratorie di questo paese siccome stiamo molto parlando del caso Open Arms di quelli che erano i decreti sicurezza allora ci siamo detti ma quanto siamo lontani con Open Arms o quanto siamo vicini con le politiche oggi di questo governo in cui pure Salvini è vicepresidente del Consiglio e ministro non più ministro dell'interno ma è intanto comunque ministro e allora riavvolgiamo il nastro per ricordarci quali sono le cose che ha fatto questo governo sul tema migranti vediamo blocco navale un atto di guerra blocco navale non è necessariamente un atto di guerra puoi tranquillamente fare un blocco navale in accordo con le autorità libiche entrata a Palazzo Chigi Meloni abbassò subito i toni tutto quello che noi vogliamo fare è impedire che la selezione d'ingresso in Italia la facciano gli scafisti quando la notte del 25 febbraio 2023 94 migranti persero la vita a largo dello steccato di Cudro per la Premier la soluzione rimase la stessa quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqua i provvedimenti annunciati dopo il naufragio prevedevano anche il potenziamento dei centri per il rimpatrio non solo in Italia l'Albania darà la possibilità all'Italia di utilizzare alcune aree nelle quali l'Italia potrà realizzare due strutture dove allestire centri per la gestione dei migranti illegali ma non tutte le strutture a giugno scorso erano pronte tutto quello che avete visto oggi è un enorme spot elezionale piano è un parlamentare non vi dovete toccare oh la roba please don't touch sta chiedendo di non toccare magi intanto la lotta alla migrazione irregolare è passata anche per i tribunali con lo scontro tra Salvini e la giudice di Catania di Olanda Apostolico il problema anche qua è se un giudice fa uscire degli immigrati che il questore aveva ritenuto dovessero essere trattenuti se questi uno due tre cinque giudici vanno a una manifestazione di piazza dove si invoca lo sbarco da una nave all'epoca della manifestazione a cui la giudice prese parte Salvini era ministro dell'interno un passato che torna a bussare alla sua porta oggi dopo la richiesta di condanna a sei anni per il fermo della nave Open Arus mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa o processato per aver difeso i confini del proprio paese anche per Meloni il vice premier stava solo svolgendo il suo dovere da ministro Onorevole strada parto da lei questo governo sull'immigrazione è diverso da quello giallo verde di cui era ministro dell'interno Salvini questo governo sull'immigrazione sta facendo molto male anche se racconta di fare molto bene questo un po' mi sembra il punto si raccontano come delle grandi vittorie aver ridotto gli sbarchi il prezzo per aver ridotto gli sbarchi sono accordi con i regimi sono persone abbandonate in mezzo al deserto da parte del governo tunisino sono sperpero di denaro pubblico per continuare a pagare guardie costiere libica eccetera quindi questo governo sta facendo molto male io comunque ero in mare quell'agosto del 2019 di cui si parla anche i giorni del caso Open Arms e anch'io sulla nave di Isola Mariano di Mediterranea ho preso un divieto di ingresso in quell'agosto lì solo 5 giorni siamo rimasti con i naufraghi sulla nave ma ecco diciamo ci sono evidentemente bastati e beh nel caso diciamo specifico di cui parliamo con Open Arms si parla di 19 giorni però fa bene ricordarlo diciamo che era un periodo nel quale questa cosa accadeva abbastanza spesso sala questo governo sull'immigrazione è diverso da quello in cui il ministro Servini era ministro dell'interno lo chiedo anche a lei beh il governo giallo verde ha avuto momenti diversi abbiamo visto la giravolta di Conte un anno prima e un anno dopo quando ha votato l'autorizzazione a procedere su Salvini l'anno prima l'aveva negata quindi è corso un po' i ripari il Movimento 5 Stelle io penso che questo governo stia facendo bene fare molto bene io penso che sia un tema difficile fare molto bene non è possibile penso che stia facendo bene e che i migliori risultati arrivano a lungo termine perché non basta solo vietare che la tratta di uomini abbia presa nel Mediterraneo ma bisogna anche che la cosa più importante andare a portare pace e sviluppo in Africa che con i tempi attuali è estremamente difficile perché viviamo due guerre una in Europa e una alle porte dell'Africa diventa molto difficile realizzare questo ma questa deve essere la linea e la linea che il governo dice stiamo facendo bene perché gli sbarchi Alessio come sono messi abbiamo preso gli ultimi dati del Viminale Tiziana l'abbiamo messi a confronto 2023 su 2024 2023 128.815 ecco il dato 2024 il dato ovviamente è parziale 44.676 Massimo De Manzoni guardi questi numeri e pensi penso che le politiche messe in atto cominciano a dare qualche frutto partono meno persone e sbarcano meno persone rispetto al governo giallo-verde il tentativo è più di fermarli prima cioè investito molto sul piano Martè non sono ancora numeri confortanti a livello teorico dovrebbe esserci uno zero in un paese civile democratico dovrebbero entrare solo persone autorizzate ad entrare che sono in regola per entrare cosa che poi stanno cercando di fare tutti i governi europei anche quelli a guida cosiddetta progressista dalla Germania a Starmer che è appena venuto qui appunto a informarsi su come stiamo agendo e a prendere anche appunti su questo e lo stesso Kamala Harris e Biden negli Stati Uniti attenzione i primi tre anni hanno abbassato la guardia hanno lasciato entrare chiunque quando poi hanno deciso che la cosa diventava troppo pericolosa dal punto di vista elettorale hanno chiuso il muro di col Messico e adesso sostanzialmente i flussi sono ridottissimi tutti i paesi si stanno muovendo in questo senso qui quindi ci sarà un motivo i problemi che creano una migrazione incontrollata sono sotto gli occhi di tutti dice l'onorevole strada il motivo sono le elezioni cioè il motivo elettorale prendere consensi Alessio e arrivo anche da Giacomo Servini Starmer è appena stato eletto in Svezia non c'è un non ci sono elezioni in Danimarca neppure non penso che sia solo elettorale Alessio il nostro sondaggio proprio questo abbiamo chiesto a chi guarda abitualmente Tagadà sulla nostra pagina Instagram il merito di questo calo di sbarchi è del governo oppure no vediamo come avete votato io ho l'operatore davanti che è in palla risultato quindi non riesco a vedere Teziana eccolo qui l'14% dice no l'11% dice sì sarebbe da chiedere però e quindi di chi è il merito Giacomo io devo dire che stavo proprio diciamo per dire questa cosa cioè secondo me non capisco quale sarebbe il merito di questo governo Piano Mattei perché loro dicono l'accordo con la Tunisia dopo l'accordo con la Libia adesso faccio la parte di Sala ma mi pare che questo sia il punto no? Allora l'accordo con la Tunisia l'accordo con la Libia come diceva la strada prima bisogna vedere pure a che prezzo cioè noi abbiamo fatto un accordo con questi due paesi e poi abbiamo delle testimonianze da questi paesi che non vengono fatti partire perché vengono tenuti migranti in questa specie di lager dove i diritti umani non sono sicuramente rispettati quindi voglio dire non credo che il governo si possa vantare del fatto che non vengono in Italia ma vengono di fatto tenuti schiavi maltrattati per non dire peggio torturati in questi posti la Libia e la Tunisia non sono due democrazie particolarmente compiute mettiamola così con un eufemismo l'altra cosa è quindi questa è la prima cosa l'altro aspetto è il piano Mattei non si sa cosa sia cioè quando diciamo abbiamo investito sui piani Mattei i soldi non li abbiamo visti è un pezzo di carta vuoto una cornice su cui non si capisce che ci sia dentro l'accordo con l'Albania è stato fatto ma i centri non sono ancora pronti adesso ci andiamo in Albania vi facciamo vedere a che punto siamo il decreto cutro che è stato approvato vi ricorderete avevano annunciato pene per i trafficanti a livello globale vi ricordate il caso anche solo di cronaca di un trafficante punito con una pena diciamo esemplare io non me lo ricordo quindi a volte e lo dico anche in maniera diciamo molto semplice a volte i dati che avete fatto vedere prima tra l'altro il 2023 c'era questo governo non è che c'era un altro governo e il 2024 sono arrivati diciamo è arrivato il governo Meloni ha sistemato tutto ma questi dati qui a volte però loro dicono non abbiamo iniziato a lavorare via via che lavoriamo diminuisce il numero delle persone che arriva in Italia per loro questo è il dato però questi dati qua a volte risentono anche di cose molto più banali per dire le condizioni meteo a volte si però diciamo tu raffronti raffronti il medesimo periodo di un anno e dell'altro quindi in linea teorica le condizioni meteo sono più o meno le stesse dipende a volte può fare a volte no dopodiché però piace evidentemente la soluzione o le soluzioni sta mettendo in campo Giorgio Meloni lo ricordavo qualcuno prima queste soluzioni piacciono al primo ministro inglese ieri era a Roma fatemi sentire un passaggio con il primo ministro Starmer siamo d'accordo sul fatto che la prima cosa da fare sia intensificare la lotta al traffico di esseri umani farlo unendo molto di più gli sforzi lavorando a una maggiore cooperazione di sicurezza l'Italia ha dimostrato che possiamo avete fatto notevoli progressi Sala per lei che vuol dire quella stretta di mano? Beh quella stretta di mano secondo me è la stretta che il premier inglese dice siete riusciti in Italia a far capire che è illegale la tratta di esseri umani cioè la vera vittoria non è quella di respingere semplicemente le navi o fare il blocco navale la vittoria deve essere che questo traffico è un traffico illegale e si deve sapere dall'origine all'arrivo poi sta parlando con me di Forza Italia che noi abbiamo anche politiche positive in materia migratoria quindi non è che siamo col paraocchi e diciamo non deve entrare nessuno volete dare l'impossibilità ai extracomunitari di comprare la sim quando arrivano in Italia credo che sia un emendamento a cos'è Alessio? a dire la sicurezza il disegno di legge e sicurezza cioè l'extracomunitario se compra il telefonino deve esibire non solo il documento di identità ma anche il permesso di soggiorno sì lì perché la casistica dell'extracomunitario che compra la sim è la casistica più sovente nel caso di criminalità organizzata e micro criminalità organizzata quindi è bene fare qualche controllo in più poi alla fine Cecilia Strada sta per strapparsi i capelli non la pensiamo allo stesso modo sicuramente insomma diciamo che penso che sia l'esperienza di tutte le cittadine e cittadine italiane che le sim si comprano non necessariamente se si è dei criminali ma banalmente perché si vuole chiamare casa comunica non ha capito cosa intendevo no non ho capito che cosa intende sinceramente non l'ho capito però tranquilli il punto mi sembra un po' questo secondo me stiamo anche un pochino imbrogliando il nostro paese il fatto che questo paese ha bisogno di lavoratrici e lavoratori stranieri che vengano qui a lavorare necessariamente questo non lo dico io non lo dicono i socialisti democratici lo dice il governatore della banca d'Italia voi sapete che 2045 è l'anno in cui abbiamo appuntamento con la storia perché avremo un rapporto occupati non occupati di uno a uno vuol dire che il paese si ferma quindi lo dice Panetta lo dice Confindustria abbiamo bisogno di lavoratrici e lavoratori stranieri come li facciamo arrivare ora il dubbio viene a un certo punto che i governi non vogliono risolvere di fatto il tema del fare entrare persone in modo legale perché se le persone sono qui in modo illegale sono molto più facilmente sfruttabili evidentemente dal caporalato all'industria come si fa a far arrivare qui le persone in modo legale si fanno dei decreti flussi veri non quelli che abbiamo visto in tutti gli ultimi anni e non è soltanto il governo Meloni anche i governi precedenti sono piccoli numeri tesi a regolarizzare chi è già presente qua nel paese cioè allarghiamo quei numeri e il problema si ridimensiona ma necessariamente le persone entrano in modo legale quando apri canali d'accesso sicuri e legali attiri anche persone con livelli di istruzione superiore ci dicono gli studi vuol dire che è più facile il processo di integrazione ma noi abbiamo comunque bisogno di queste persone negarlo è assurdo quindi si tratta di governare il flusso migratorio non si può pensare di fermarlo e sicuramente non si può pensare poi di fermarlo con appena meno per quanto mi riguarda compiendo violazioni dei diritti umani che prima o poi chiedono il conto non solo alle proprie coscienze ma anche diciamo condanne ricorsi non esiste non si può pagare ogni volta che violiamo i diritti umani Massimo De Manzoni poi torno anche da Fabrizio Sala io sono perfettamente d'accordo le due cose non stanno perfettamente insieme è verissimo che bisogna governare i flussi ed è esattamente quello che si chiede è quello che finora non è mai stato fatto è quello che in qualche modo questo governo sta provando a fare ma non ha ancora compiutamente raggiunto questo obiettivo l'obiettivo è esattamente quello questo governo ha ampliato i flussi regolari intanto per cominciare rispetto ai governi precedenti ma bisogna contemporaneamente ridurre quelli regolari perché altrimenti il discorso che abbiamo bisogno di lavoratori stranieri si riferisce esattamente su quali sono perfettamente d'accordo allo sfruttamento ed è esattamente quello che è stato fatto negli ultimi 10-15 anni abbiamo importato manodopera a bassissimo costo perché clandestina ricattabile e sfruttabile abbassando il costo del lavoro e non è un caso se in Italia gli stipendi non sono cresciuti negli ultimi 10-15 anni a differenza che nel resto di tutta Europa le due cose vanno insieme bisogna bloccare gli irregolari e favorire i flussi regolari magari anche controllare chi prende mano d'opera perché mediamente sono gli italiani brava gente quelli che pagano male l'immigrato clandestino sono tutti bravissimi italiani tutti i nostri connazionali i quali pagano una miseria e se poi ti succede un incidente ti buttano per strada così per ricordarci un po' di cose è verissimo c'è il business di questo c'è il business di chi li fa arrivare c'è il business di chi li sfrutta una volta che sono qui nei due sensi dell'accoglienza cosiddetta e abbiamo visto le co-op come lucravano sulle pelle di questa gente qui e poi anche le imprese che li sfruttano tutti gli imprenditori che li sfruttano allora si è detto deterrenza noi come facciamo a far sapere agli immigrati che non conviene venire in Italia si è detto ad esempio li prendiamo e li portiamo in Albania ora siccome noi abbiamo la testa dura quindi quando cominciamo a ragionare su una cosa poi ci torniamo perché vogliamo essere sicuri che le cose vengano fatte così come ci viene detto perché tendiamo a fidarci onorevole Sala non mi guardi male allora per capire a che punto siamo in Albania ci facciamo aiutare da Carlo Bollino chi è Carlo Bollino è il proprietario e direttore di Report TV intanto lo saluto buon pomeriggio buon pomeriggio a voi dopodiché però prima di parlare con Carlo Bollino io vi faccio vedere a che punto erano i lavori a giugno quando in Albania era andata la nostra Elena Testi a documentare appunto com'era la situazione lì era arrivata Giorgio Meloni e quindi era arrivata anche Elena Testi questo è l'hot spot che vedete dall'alto e qui è molto chiaro questo reticolato qui entrano in tutto mille persone ciò che fa impressione di questo luogo sono il numero altissimo di Pellemere che io sinceramente ho visitato molti hotspot CPR d'Alessano ma tante così non le abbiamo mai viste per quanto riguarda i tempi in realtà questa struttura doveva essere terminata il 20 maggio Jader ugualmente la Presidente del Consiglio ha ammesso che siamo all'incirca due mesi in ritardo se le tempistiche sono rispettate e quelle che sono state nuovamente dette quindi l'apertura entro il primo agosto ma che questi due mesi di ritardo sono valsi la pena per un accordo servono per fare le cose per bene servono per fare le cose per bene quindi la cosa slittava il primo di agosto oggi che giorno è Alessio? oggi è il 17 settembre 17 settembre e allora Report TV con l'inviato di cui chiedo il nome perché mi fa piacere citarlo chiedo il nome a Carlo Bollino chiamo Elvisila Elvisila è il nostro corrispondente ci ha girato le immagini dello stato dell'arte in questo momento quindi chiedo alla regia di farcele vedere così capiamo se appunto ci siamo oppure no e queste sono le immagini dello stato dell'arte intanto è stato complicato girarle queste immagini Carlo? Beh sì diciamo che la polizia non consente di avvicinarsi per cui siamo costretti a usare il drone che ancora non è stato bloccato perché poi c'è anche il timore che in seguito vengono messi dei sistemi per impedire anche ai droni di volare però in questo momento via cielo diciamo abbiamo potuto fotografare la situazione che è un po' più avanzata rispetto a queste immagini che state mostrando ecco queste sono le immagini girate ieri pomeriggio la struttura è in fase di queste sono immagini girate dieci giorni fa cioè le immagini da terra sono state girate dieci giorni fa le immagini dal cielo sono state girate ieri c'è stato un piccolo avanzamento quindi possiamo vedere il leggero avanzamento ma ieri Piantedose ha assicurato che i centri saranno pronti per ottobre adesso non sappiamo se è l'inizio o la fine di ottobre in base alle informazioni di cui tu disponi questo ottobre quindi diciamo fra pochi giorni Carlo secondo te è plausibile? ma diciamo che il centro teoricamente potrebbe essere pronto perché il problema principale nei ritardi se consideriamo ritardo rispetto alle previsioni che forse sono state eccessivamente ottimistiche perché poi alla fine questa struttura qui si è cominciata a lavorare realmente a luglio quindi non sono stati lavori semplici perché nei sopralluoghi geologici hanno scoperto che questa zona di territorio era soggetto a frane e a rischio di inondazioni quindi hanno dovuto fare un'operazione di carotaggio diciamo così cioè sono stati sulla superficie di 70.000 metri quadrati che è costituita dall'intero campo hanno dovuto inserire 7.000 piloni in cemento armato da 50 cm l'uno che ha costituito la pavimentazione diciamo così del campo sul quale poi hanno messo i prefabbricati sarà costato anche un sacco di soldi immagino beh insomma i conteggi sono quelli che sono stati fatti in Italia qui in Albania le cifre non si conoscono perché questi lavori li ha fatti il governo italiano cioè in Albania praticamente hanno semplicemente osservato ma c'è da registrare che se abbiamo scoperto poi che era una zona alluvionabile da come ci dice o che era una zona che poteva franare e quindi sono stati fatti dei lavori in più probabilmente rispetto ad un ipotetico preventivo abbiamo speso molti più soldi mi viene da pensare ma parlo come chi è abituato magari a ristrutturare casa poi forse è andata diversamente questo tipo di intervento secondo quello che ci hanno riferito non era previsto all'inizio l'hanno scoperto per ragioni di sicurezza perché comunque quando arriva l'Italia arriva con certi standard che magari qui non erano stati prospettati messi in conto certo che questo lavoro di carotaggio ha richiesto molto tempo e sicuramente anche molti costi quindi più tempo e probabilmente più costi c'è anche un carcere che deve essere costruito tra le strutture previste mi sai dire a che punto è in particolare il carcere? ma non è il carcere è uno dei prefabbricati c'è l'Algunia ha debito ad alloggio tanto per il personale italiano per i carabinieri la polizia guardi finanze che garantirà la sicurezza poi c'è l'infermeria poi c'è la mensa poi ci sono le cucine ci sono le zone dedicate all'interrogatorio alle variabilizzazioni e poi c'è un'area c'è una palazzina che è destinata alla custodia cautelare nel caso in cui ci fossero necessità di arresti infatti sono previsti anche agenti di custodia della polizia penitenziaria italiana insieme alle aliquote diciamo i carabinieri e altre forze di polizia che invece garantiranno la sicurezza lungo il perimetro interno ok quindi noi dovremmo mandare dei nostri agenti di custodia in questo carcere in Albania sì è prevista la presenza di agenti di custodia come peraltro parlando un po' insomma con chi è informato ho scoperto che sono previsti anche diciamo rappresentanti di alcuni ministeri dovrebbero essere presenti addirittura dei procuratori che saranno costantemente in Albania per garantire poi le procedure legali mentre gli avvocati potranno essere anche albanesi quindi diciamo che non è prevista la presenza degli avvocati italiani salvo che qualche immigrato non ne facesse esplicita richiesta la difesa sarà assicurata dagli avvocati albanesi che avranno accesso diciamo al campo però ci devono essere anche dei giudici che si devono esprimere perché mi pare di ricordare che entro 48 ore ci deve essere la convalida dell'arresto sì i giudici servono comunque perché noi stiamo parlando comunque di richiedenti asilo che potrebbero anche poi fare ricorsi quindi comunque c'è un'interfaccia giudiziaria che sarà in parte realizzata da giudici da personale diciamo nel sistema della giustizia presenti in loco non sappiamo quanti né quando verranno il foro di competenza è Roma e quindi verosimilmente si faranno processi in teleconferenza come peraltro si è praticato anche in alcuni processi di mafia in cui venivano interrogati testimoni o pentiti Carlo grazie grazie davvero e ci hai aiutato a rimettere in fila tutte le informazioni veramente grazie per il tuo contributo e ti chiedo Giacomo di che cosa stiamo parlando poi là arrivano quanti migranti e che problema risolve questo luogo devo dire che questo è veramente uno spottone incredibile perché se andiamo a vedere i numeri è un'operazione propagandistica e basta perché i numeri intanto c'è un tema di costi quello che dicevi tu allora la regioneria generale dello Stato dice che questi centri questi due centri costeranno in tutto solo i centri 90 milioni in regia posso chiudere io? l'anno cioè che è l'equivalente sì rispondo io dite a Carlo Bollino che può chiudere il collegamento prego Giacomo 90 milioni l'anno è l'equivalente di 3 CPR in Italia ok e ha diciamo alla fine cioè uno ne costa tre esatto esatto poi quando diciamo questo questo sistema entrerà al regime costerà circa mezzo miliardo cioè voi pensate che in questo momento la maggioranza e Sala lo sa stanno facendo i conti all'ultimo spicciolo per raschiare il fondo del barile per trovare i soldi per la manovra e buttano via mezzo miliardo per fare cosa? per prendere circa dicono al massimo 3.000 migranti e fare tutte le procedure per poi rimpatriarli qual è il problema? che i numeri italiani dei rimpatri italiani ne hanno dicono che l'Italia rimpatri ogni anno circa 2.800 migranti in media cioè vuol dire che noi dovremmo fare al mese gli stessi migranti che facciamo in un anno questo perché non è possibile non è possibile perché per fare i rimpatri e questo lo sanno tutti bisogna avere gli accordi con i paesi di provenienza servono gli accordi con gli altri paesi quindi fare dei centri è assolutamente inutile anzi si rischia una cosa in più si rischia che questi migranti stiano in questi centri passato un mese non si sa che fine faranno allora aspetta 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 onorevole Sala rimettiamo in fila i dati abbiamo detto che ci costa un sacco di soldi oggettivamente costa un sacco di soldi costa di più di un CPR in Italia ma noi diciamo per la deterrenza chi parte da lontano deve sapere che neanche ci arriva in Italia perché noi i maschi e solo i maschi maggiorenni giusto me lo conferma vengono presi e portati in Albania solo che poi succede che intanto abbiamo detto spendiamo un sacco di soldi ne possiamo portare un numero limitato quei maschi maggiorenni dopo 28 giorni perché questo è il tempo si capisce se hanno diritto a stare e allora possono entrare in Italia se non hanno diritto a stare devono essere rimpatriati ma noi rimpatri non li facciamo allora me lo spiega lei perché stiamo buttando tutti questi soldi considerato che non abbiamo i soldi che ne so io per assicurare l'assegno unico alle famiglie cioè stiamo discutendo di come fare però non possiamo paragonare i soldi che stiamo spendendo per i migranti per i rimpatri per questi centri a quello dell'assegno unico delle famiglie ci sono due cose diverse cioè è vero si sta tentando una nuova strada con mille critiche anche se sui lavori gli imprevisti possono accadere accadono io dico sempre che è sbagliato dire la data di inaugurazione perché non sai mai qual è l'imprevisto che ti può accadere è anche vero che l'Italia ha norme diverse rispetto all'Albania ma ha anche norme diverse rispetto alla Svizzera noi abbiamo talvolta delle norme in tema di costruzioni che sono ancora più rigide rispetto a tutta l'Europa ora siamo in ritardo è passata la stagione estiva evidentemente non è la settimana in più o la settimana in meno uno due stiamo iniziando una nuova strada abbiamo iniziato l'idea dello spot dell'hot spot del centro all'estero che è importante io non credo che costi così tanto di più di un hot spot italiano non solo ma stiamo dedicando non solo stiamo dedicando perché lo stiamo avviando poi vedremo a regime non solo stiamo dedicando una struttura apposita non un carcere sono delle celle però che automaticamente che indipendentemente ci sia una struttura che può dedicarsi a quello secondo me è sintomo di efficienza aggiungo un'altra cosa stiamo creando anche condizioni per quelli che ci saranno un po' più umane perché nei centri che abbiamo adesso le condizioni sono disumane quindi costruire un nuovo centro come io dico anche costruire nuove carceri è di fondamentale importanza per una questione di umanità e anche per i diritti umani che qualcuno ha citato anche prima Sicilia Strada devo chiedervi brevità purtroppo siamo fuori tempo Massimo onorevole Sara davvero non possiamo raccontare che lo stiamo stiamo facendo il centro in Albania per proteggere i diritti umani delle persone che arrivano davvero questo è un pochino troppo io lo dico vabbè ok sinceramente io e lei credo ci troveremo mai nella situazione di dover si spera di dover chiedere asilo però proviamo a immaginare cosa significa chiedere asilo in teleconferenza sicuramente io non sarò mai su una nave come lei questo è sicuro un pasticcio no no però facciamo facciamo una bella esperienza venire a vedere cosa significa davvero stare in mare salvare le persone e rendersi conto davvero aiutare i trafficanti me le chiama mi perdoni mi taccio mi taccio mi taccio mi taccio per il dibattito voglio l'opinione di Sicilia Strada su questa questione noi prendiamo scegliamo un luogo in Albania ci accorgiamo che evidentemente non ci hanno dato tutte le informazioni giuste che ci sono una serie di problemi quindi per mettere in piedi la struttura ci costa di più del previsto pazienza quanto ci costa quella struttura rispetto alle strutture italiane dice la ragione dello Stato ci costa di più dobbiamo spostare del personale italiano poi lo voglio vedere il personale italiano che va in Albania anche lì parliamone gli agenti penitenziari che già sono pochissimi le nostre carce lasciamo stare comunque anche quello vedremo come va a finire quanti ne possiamo mettere 3.000 fino a 3.000 a regime quando sarà tutto pronto come li prendiamo e come li portiamo se su un barcone ci sono donne e bambini facciamo la selezione poi quelli li prendiamo e li portiamo in Albania un'immagine che a qualcuno piace a qualcun altro piace meno anche perché separerai delle famiglie separerai anche delle famiglie ovviamente li porti in Albania a quel punto passano 28 giorni hai fatto il processo chiedi se hai diritto all'asilo lo fai con un avvocato lo fai in teleconferenza col procuratore non so come risultato dice te ne devi tornare a casa peccato che i rimpatri non li fai tutto sto gioco serve a Cecilia Strada per favore serve a fare uno spottone elettorale ci avevamo provato col blocco navale poi tutti i cittadini sono resi conto che era semplicemente impossibilia ora ci provano questo chiudo velocissima facendo notare all'onorevole Sala che nonostante un sacco di processi sono stati diciamo un sacco di denunce contro le navi di soccorso in base a questa teoria del collegamento con i trafficanti tutto finito in archiviazione non ci sono mai stati trovati mai mai non c'è neanche un processo in corso rispetto alle navi di soccorso non siamo noi che siamo a processo per sequestro di persone e sarebbe ora veramente di smetterla di imbrogliare le persone e di diffamare e di diffamare grazie a tutti gli ospiti Massimo De Bozoni resta con noi mi devo fermare Alessio che succede? novità Tiziana sulla notizia arrivata dal Libano esplosi cerca persone mille feriti sono stati richiamati a Beirut i sanitari negli ospedali per curare le persone sembra che non ci siano deceduti questa è una notizia terribile davvero l'accusa è rivolta a Israele un'operazione di accheraggio da remoto non confermata tra i colpiti ci sarebbe anche l'ambasciatore iraniano in Libano a Manì dopo la pubblicità ancora aggiornamenti saluto e ringrazio tutti gli ospiti vedo già la professoressa Urbinati resta con noi Massimo De Manzoni qualche minuto torniamo